Dove sono i trader bravi con le splendide performance profittevoli nel tempo? Dove siete? Dove siete? Fatemi sapere dove siete? Itoro ha studiato un modo, un metodo per individuarli. Itoro è un broker presente sul mercato da diversi anni. Cominciamo da zero. Io ho cliente Itoro, voglio cominciare a fare delle operazioni, essere operativo, i mercati sono tanti, quindi non lo so, su indici, etf, tecnologici, titoli finanziari, principali valute, le materie prime o le criptovalute, le tanto tanto richieste criptovalute. Quindi io, trader Itoro, metto a fare le operazioni, voglio comprare, vedete, vendi, acquista, il bitcoin o l'ethereum, insomma, tutte quelle che sono le varie opzioni. Che cosa succede? Posso decidere di rendere visibili le mie operazioni, i miei trade. Quindi lo posso vedere tutto il mondo, almeno tutto il mondo di Itoro. In questo modo, Itoro ha studiato quasi quasi perché non creare delle classifiche dei traders e dividerli per varie tipologie in base al rischio, gli asset su cui investono, quanto sono profittevoli. Davvero tante, tante informazioni vi mette a disposizione. Quindi cliccando a sinistra su persone, entrate in questo mondo fantastico. I primi, la scelta degli editori, per poi, se passate sopra il mouse, vedete anche un po' la descrizione, per poi scorrere e vedere che ci sono anche gli investitori top, tendenze, maggiormente copiati. Ci sarà un motivo per cui questi trader sono più copiati, quindi magari andando a spulciare quelli con basso punteggio di rischio, medio punteggio di rischio. Ci sono tante, tante situazioni. Si può, entrando dentro, per esempio, maggiormente copiato, Alex, attira decisamente la mia attenzione. Andiamo a vedere Alex. Alex, perché è maggiormente copiato? Già si vede la performance di questo 2017, siamo a 42,7% e viene anche da un 2016, 58,46, sta già quasi raggiungendo la performance. Ma scorrendo in basso troviamo tante altre informazioni, punteggio di rischio, il punteggio di rischio su base mensile, le azioni, su cosa ha investito azioni, cripto, valute, c'è tutto davvero, ai raggi X, tutta quella che è la sua operatività, altre statistiche aggiuntive, transazioni per settimana, tre settimane, il tempo medio di conservazione durata di un trade attivo dal 25 maggio del 2016, 66, 67 settimane profittevoli, il portafoglio, che cosa c'ha in portafoglio? Non il portafoglio quello suo, che esce dalla tasca e ha in portafoglio, ma le operazioni che detiene, quindi tutto quello che sta realizzando in questo momento, tutto davvero ai raggi X. Questo perché in questo modo voi potete vedere, studiarvelo questo trader, se è bravo o no, e poi decidere di copiarlo. Sì, copiare, si può copiare, in scuola mi ha detto che non si copia, qui si è copy trading, si può copiare, quindi voi potete decidere di agganciare il vostro conto e replicare la performance del trader. Ovviamente fatevi una bella scelta, potete selezionare da prima persone, da qui si crea tutto ovunque, da dove, su quali mercati, guadagnate almeno 10% o durante quale arco di tempo, mese, ultimi due anni. Sono curioso, mi va, voglio andare a vedere adesso i trader italiani. Andiamo a vedere i nostri trader italiani. Scendiamo, scendiamo, scendiamo giù, scendiamo giù, arriviamo alla I, vediamo come si comportano. Lasciamo le altre tutte informazioni, clicco su vai, e beh, devo dire che i nostri italiani si fanno difendere bene, Cristian più 48, Gianluca più 49, Magico, Orlando 82, 154% nell'ultimo anno, profitto 83, 39, 23, bravi, bravi, insomma bravi, 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 decisamente bravi i nostri italiani. E quindi, insomma, voi studiate bene asset, tutto quello che è, insomma, l'anagrafica e raggi X, come vedete, dei vari traders, e decidete poi se è il caso di seguire la sua operatività. È un servizio pensato per chi magari non ha le conoscenze, le basi, il trading, oppure non ha tempo da dedicare all'attività degli investimenti, quindi magari si affida a qualcuno che invece è lì, è ottenuto, è conseguito quelli che sono stati i risultati. Insomma, chiamate, scrivete, mandate un'email, chiede informazioni a Itoro su questo mondo del copy trading, perché, o anche se sei un bravo trader, però vedi che c'è un altro che o è più bravo di te, oppure lavora su un altro asset per diversificare il proprio portafoglio. Insomma, informate, informate, chiedete di più su questo copy trading del mondo Itoro. Grazie e arrivederci! Grazie! Grazie!